Ciao di nuovo, in questa sezione andremo a vedere un trattamento che si chiama rilasciare, sciogliere il diaframma. Come voi sapete il diaframma è uno strumento muscolare sotto le costole, che si estende dal davanti a dietro e che divide la parte del petto dalla parte dello stomaco. Questo è uno strumento che permette all'ossigeno di andare nelle sangue e massaggiare la zona degli organi contenuti nell'addome. Ma il diaframma è anche una zona dove molta energia si ferma, si ferma immobile, ristagna. Energia emotiva, energia tossica, tutta l'energia che noi abbiamo, di cui nella vita abbiamo esperienza, che si ristagna, che ristagna più nel diaframma, dei nostri pensieri, tutte le esperienze che noi abbiamo avuto nella vita e che non siamo in grado di sciogliere, ristagna più nel diaframma. Quindi a volte nei trattamenti è utile sciogliere proprio questa zona del diaframma e lasciare che tutte queste energie ristagnanti si sciolgono e vadano fuori. Quello che io definisco appunto sciogliere il diaframma, liberarlo. Quello che stiamo cercando di mostrarvi qui è parte della medicina orientale e parte della medicina occidentale o semplicemente parte della medicina energetica. Quindi inizieremo il trattamento dai piedi, poi andremo alla schiena e continueremo nelle orecchie. Nella riflessologia hanno parti nei piedi che corrispondono alla parte fisiologica del corpo e anche il diaframma non è un'eccezione. La zona è esattamente sotto l'avampiede, proprio qui, come vedete. E certamente chi ha studiato sciazzo, aggubuntura e altre discipline sa che esattamente nel mezzo di questa zona c'è la zona di Rene 1. Esattamente opposto, dall'altra parte trovate il fegato 3. Un sacco di punti, è inclusa anche la misa 3 e vescica biliare 41 e vescica 65, che possiamo utilizzare questo per lavorare sulla zona del diaframma attraverso il sistema dei meridiani. Quindi operiamo gentilmente e delicatamente, vedete, con il nostro ara, pressando, apportando una leggera pressione nella zona all'inizio perché potrebbe essere doloroso.